Giornata di antivigilia in casa Taranto, sabato allo Iacovone sarà di scena l'Avellino e i rosso-blu reduci dall'importante successo ottenuto contro il Francavilla cercano il bis per archiviare quasi definitivamente la pratica salvezza, obiettivo in ogni caso molto vicino. Concreta la possibilità che Capuano, ex di turno, possa dover rinunciare a quattro potenziali titolari, certa l'assenza di manetta out per 15 giorni a causa di un problema al bicipite femorale destro, fermo anche Crecco, in realtà già ai box da una settimana abbondante, da valutare Formiconi e Semprini i quali in ogni caso stanno svolgendo lavoro di recupero. Scelte praticamente obbligate in retroguardia laddove sarà Sciacca a completare il pacchetto difensivo insieme ad Evangelisti e Antonini, mentre in attacco appare pressoché certo l'impiego del Tanna in bifulco Tommasini, quest'ultimo in particolare vive un periodo d'oro dopo la rete messa a segno domenica contro il Francavilla. A centrocampo reclamano spazio Provenzano e Diabì, entrambi reintegrati vogliono fornire un contributo importante nel corso del rush finale.